1,5 miliardi di euro su tutto l'Abruzzo, 753 milioni messi a disposizione con il Fondo per lo Sviluppo e Coesione, 138 milioni disponibili già da subito, per completare e avviare non oltre il 2017 tantissime opere, tra cui storiche incompiute o opere attese e annunciate da decenni ormai. Questo è il masterplan per l'Abruzzo, presentato dal presidente della regione, Luciano D'Alfonso. Dopo tanti contatti con il sottosegretario della presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, e con il capo dipartimento programmazione politica e economica, Ferruccio Sepe. Scorrendo la lista degli interventi, molti sono quelli che riguarderanno la viabilità, come il completamento della Terramomare, della Fondovalle del Sangro, della Statale 17 L'Aquila-Bussi e la viabilità minore, ma non meno importante, per le nostre aree interne. Epocale sarà anche la velocizzazione della ferrovia Pescara-Roma, ma anche del tratto sul mola L'Aquila. Sarà potenziato, secondo il masterplan, l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, mentre nulla è previsto per l'aeroporto dei Parchi dell'Aquila. 60 milioni sono invece destinati a realizzare una rete di piste ciclabili, non solo lungo la costa, ma anche tra le aree interne e la costa. Si interverrà sui porti di Ortona, Roseto e anche in quello di Pescara, per risolvere qui l'annoso problema dell'insabbiamento. Sono previsti anche molti fondi per riparare e costruire nuovi depuratori, a beneficio anche del superamento dell'emergenza mare inquinato. Tanti saranno gli interventi di bonifica, utili a evitare finalmente le salate multe europee e di messa in sicurezza idrologica di un territorio fragile e a rischio. Sarà completata anche la diga di Chiauci, in provincia di Chieti, ferma da 40 anni. Il masterplan prevede anche interventi sull'ex ospedale psichiatrico dell'Aquila a Colle Maggio, anche se non è ancora chiaro cosa verrà fatto con i 10 milioni stanziati, di cui un milione solo entro il 2017, sull'ex Stella Maris di Montesilvano, sull'ex Manicomio di Teramo e sull'ex Casal Mabucciante di Chieti. Il termine per il completamento delle opere in stato avanzato di progettazione è quello del 2017, opere che hanno la priorità, del 2020 invece per tutte le altre in elenco.